Il medico di TG Alfa Il medico di TG Alfa All'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Ricata Per complicazioni sopravvenute Nei giorni successivi Era stato trasferito prima all'ospedale di Militello E poi al Canizzaro di Catania Dove è deceduto La cronaca giudiziaria Totò Cuffaro non sarà processato nuovamente Per il reatto di favoreggiamento alla mafia Lo ha stabilito la Cassazione I particolari I giudici della seconda sezione penale Della Corte di Cassazione Accogliendo la richiesta del Procuratore Generale Hanno respinto il ricorso che la Procura di Palermo Aveva presentato contro il proscioglimento Dell'ex governatore Salvatore Cuffaro Accusato di concorso esterno In associazione mafiosa Cuffaro che si trova in carcere a Rebibbia Per scontare una condanna definitiva A sette anni nell'ambito del processo Sulle talpe alla DDA È stato prosciolto dall'ulteriore accusa Per il principio del nebis in idem Per cui un imputato non può essere processato Due volte per gli stessi fatti Perquisiti questa mattina dagli agenti della Digos Gli uffici dell'azienda sanitaria provinciale Del Viale della Vittoria ad Agrigento I poliziotti hanno acquisito carte e documenti Sulla gestione dell'Asp Sul mandato del sostituto procuratore Andrea Maggioni Ancora non si conoscono bene i dettagli di questa operazione Inchiesta sull'ECAP L'ente di formazione professionale Legato alla CGL di Agrigento Avvisi di garanzia per l'assessore comunale Ignazio Valenza E per due carabinieri Sentiamo La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta Per truffa sull'ente di formazione professionale ECAP di Agrigento Disponendo delle perquisizioni Nei confronti di quattro indagati di tre società Al centro delle indagini della Guardia di Finanza Ci sarebbero le assunzioni di quattro dipendenti Che secondo l'accusa sarebbero state effettuate In assenza delle autorizzazioni della Regione E la richiesta di applicazione della Cassa Integrazione in deroga Accertamenti sarebbero in corso anche sul finanziamento regionale Che sostiene la Procura Sarebbe stato indebitamente percepito dall'ente Per pagare il personale dipendente nel dicembre 2010 Con buste paga sottoscritte dai lavoratori In assenza dell'incasso dello stipendio Indagini riguarderebbero il settore fiscale Costi di gestione e altri finanziamenti percepiti Le indagini del nucleo di Polizia Tributaria E della Guardia di Finanza Sono coordinate dalla Procura di Egrigento Indagati sono il presidente dell'ECAP Ignazio Valenza, 49 anni Attualmente assessore della Giunta Zambuto Il maresciallo dei Carabinieri Antonino Arnese, 43 anni La cui moglie lavora dal settembre del 2012 Nella Ollus Casa Amica Di cui Valenza è presidente Indagati anche due dipendenti dell'ECAP Mario Carmina, di 47 anni E Giuseppe Valenza, di 42 Che risultano essere soci Di una società di servizi di consulenza Le perquisizioni sono state disposte Dalla Procura di Egrigento All'ECAP, alla CEDAC E alla Ollus Casa Amica Nell'ambito dello stesso procedimento Indagato per rivelazione di segreto d'ufficio E favoreggiamento personale Vincenzo Mangiavillano, 58 anni Comandante della sezione di Polizia Giudiziaria Dei Carabinieri della Procura di Egrigento Avrebbe parlato delle indagini Con il presidente dell'ECAP Ignazio Valenza E con il suo collega Antonino Arnese Militari della Guardia di Finanza Gli hanno notificato un invito A comparire davanti alla Procura Le indagini sono state avviate Dopo la denuncia di 12 lavoratori dell'ECAP Sul mancato pagamento Dello stipendio di dicembre 2010 Con il loro legale Che ha eccepito la sottoscrizione Delle buste paga Firmate per quietanza dagli stessi dipendenti La Procura della Repubblica di Egrigento E' chiesto rinvio al giudizio di Gerlando Tarallo 77 anni pensionato L'imputato che il prossimo 26 marzo Dovrà comparire davanti al giudice Per le udienze preliminari Alberto Davico per l'udienza E' accusato del reato di omicidio colposo L'8 settembre del 2011 In via panoramica dei Templi Avrebbe causato un incidente stradale A seguito del quale perse la vita Francesca Laimo 20 anni, studentessa agrigentina La giovane si trovava a bordo Di uno scooter Che si scontrò contro L'autovettura condotta proprio dal pensionato Cambiamo argomento La data all'ambiente rischia un nuovo stop Quasi tutti i comuni soci sono morosi Anche se c'è qualche eccezione E adesso lato a G3 Ha finito i soldi perfino Per acquistare il carburante dei mezzi Per questo motivo Che il commissario liquidatore Miceli Ha convocato i sindaci dei sette comuni Il vertice con i sindaci di Ricata Canicattì, Palma di Montechiaro Naro, Campopello Ravanusa Camastra È in programma per domani mattina Non voglio certo fare allarmismo Il commento di Miceli Semplicemente sto rappresentando La situazione nella quale ci troviamo La scorsa settimana abbiamo versato Al personale un acconto Dello stipendio di febbraio Ma non sappiamo quando potremo Garantire il saldo Ma c'è di più Sono quasi finiti i soldi Per acquistare il carburante dei mezzi La situazione sembra drammatica Tanto che lato addirittura Potrebbe sospendere il servizio Rivolgo un nuovo appello Aggiunge i Miceli e i sindaci Affinché ci liquidino Perlomeno parte delle spettanze arretrate La situazione sembra drammatica Dalla prossima settimana Se nel frattempo Non avremo ricevuto le quote Saremo costretti a ridurre il servizio Nei comuni morosi Il Dipartimento Lavori Pubblici Del comune di Ricata Ieri ha disposto La liquidazione di 50 mila euro Alla dedo all'ambiente Ma perché la somma Possessere accreditata Passeranno alcuni giorni Intanto la situazione si aggrava Con il trascorrere delle ore E Rosario Miceli È intervenuto anche Su un'altra questione Ha ribadito Che la dedo all'ambiente Non può assumere nessuno Annunciando che Trasmetterà alla magistratura Eventuali richieste di assunzione Che dovessero pervenirli In ossequio Ha scritto il commissario liquidatore In un comunicato stampa Alle vigenti normative regionali Lato agitre Non può effettuare assunzioni Di nuovo personale Sia a tempo determinato Che a tempo indeterminato Pertanto diffido chiunque Attivi e favorisca Aspettative mirate Alla possibile assunzione Di personale Presso lato agitre Di astenersi Da tali comportamenti La dedo all'ambiente Effettua e continuerà Ad eseguire Servizi raccolte Integrate dei rifiuti Nei sette comuni Di propria competenza Con il personale Inorganico Presente inorganico Eventuali dichiarazioni Di soggetti interessati A vicende politiche Orientate alla promessa Di assunzioni Di personale Presso la dedo all'ambiente Sono completamente prive Di fondamento Adesso ci fermiamo C'è la pubblicità A tra poco Grazie a tutti Grazie a tutti